Domenica 27 novembre il Movimento 5 Stelle selezionerà i 24 candidati che andranno a comporre la lista per il Consiglio Comunale. I grillini aspiranti membri di Rassise sono 33 e saranno votati dagli attivisti. Ancora Cinzia Chiappini. Dieci ore di consultazioni e conteggi per individuare la lista degli aspiranti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Domenica 27 novembre dalle 9 alle 19 i grillini carraresi saranno impegnati nella selezione dei candidati per l'assise. Alla scadenza di fine ottobre indicata dal Movimento si erano presentate 43 persone. Una decina ha rinunciato mentre 33 sono passati dalla graticola, vale a dire l'appuntamento con le domande degli attivisti. Domenica presso la sede di Galleria D'Azzeglio gli attivisti storici esprimeranno la loro preferenza. con la possibilità di indicare fino a 24 nomi. A fare da scrutatori i consiglieri comunali del Movimento, Matteo Martinelli, Federico Bonni e Francesco De Pasquale, che a fine giornata, contati i voti, stileranno una graduatoria di 33 candidati. A parità di preferenze sarà privilegiato l'aspirante consigliere più giovane. E nonostante sulla lista delle amministrative finiranno solo 24 nomi, i 9 meno votati saranno comunque tenuti in considerazione per eventuali avvicendamenti. Ma chi sono gli aspiranti consiglieri grillini? Per ora il Movimento mantiene la bocca cucita sui nomi e si limita a rivelare qualche dato anagrafico. Il più giovane ha 26 anni, il più vecchio 63, l'età media è di 40 anni e gli uomini sono più delle donne, hanno spiegato gli attivisti. Per conoscere nomi e cognomi, dunque, si dovrà attendere la giornata di domenica.